Peppa e il parrucchiere Mamma Pig, è buonissimo questo pranzo! Oh, mi fa molto piacere! Lo sai che Peppa ha i capelli lunghi e quindi ti ho invitato da un parrucchiere? Oh no! Sai che il parrucchiere non lo amo! Ma dai Peppa, ti farà solo un piccolo taglio di capelli! Non fa così male! Sì sì sì! Io vado a fare la pipì! Su Peppa, vai a lavare le mani! Ah, me ne ho dimenticata! Ok Mamma Pig! Come mi ha chiesto la mamma, devo lavarmi le mani! Ok, me le lavo per bene! Oh, che mangiata! Mi sento davvero sazia! Su George, preparati! Sì sì! Mentre io mi guardo il mio programma preferito, che è già iniziato! Papà Pig, non sapevo che ci fossi pure tu! Certo mamma Pig! Mi sto guardando anch'io il mio programma preferito! Vorrei dire che adesso lo guarderemo insieme! Sì! Dov'è Peppa? Va a parrucchiere! Va a parrucchiere! Va a parrucchiere! Sì sì! Sì sì! Sciattonetto! Sciattonetto! E opa! Ok, ho finito di lavarmi le mani e adesso scendo in salotto! Mamma! Papà! Ma stai guardando il vostro programma preferito! Lo posso vedere anch'io? No Peppa! Questo programma è per gli adulti! Ma lo voglio vedere anch'io! Va bene! Accomodati pure! Ah! Che divertente questo programma televisivo! Peppa! Adesso è finito il nostro programma! Adesso dobbiamo andare dal parrucchiere! Non ti ricordi? Già! Dovevamo andare dal parrucchiere! Allora io spengo la tv! Ecco qua! Spengo il tasto della tv! Adesso ci vestiamo e andiamo dal parrucchiere! Dai su Peppa! Sbrigati! Il parrucchiere non può essere aperto tutto il giorno! Ah mamma! Sì 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 sì! Giorgio ti puoi fare pure male! Sì 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 sì! Opa! Opa! Ai George! Mi hai fatto malissimo! Sì sì sì! Ma è ma è ma è ma è! George! George! Scendi subito dalla mia testa! Pesi 5 kg! Ok adesso posso andare dal parrucchiere! George, ma chi sono tu? Vieni, sbrigati! Sì, sì Buongiorno, cosa desideri? Una piccola spuntatina ai capelli Ok Ok, adesso taglio i tuoi capelli e li faccio nuovi di secca A tipettura, nuovi di secca, mai visto? Eh eh, adesso vedrai E adesso con una motosega ti seguo qualche capello Ma non le fai male? Ma sì Mamma Pig, tanto so come sistemare i capelli della sua figlia Ok Ok Oh mamma Ok grazie parrucchiere Ci vediamo la prossima volta Ok Peppa Ciao Su Peppa andiamo Ragazzi lasciate un like E iscrivetevi al canale Ciao ciao